Buonasera e bentrovati a questa nuova edizione del TG Noi Versilia. In apertura alla pagina di Cronaca si segue la pista dolosa nelle indagini per l'incendio divampato nella nottata in un capannone dell'area industriale delle Bocchette a Capezzano Pianore. Le fiamme hanno distrutto tutto quanto e inoltre c'è l'amianto sul tetto e dunque sono state prese misure straordinarie. Sentiamo il particolare e vediamo le immagini delle operazioni dei Vigili del Fuoco. Sono ingenti i danni provocati da un incendio divampato intorno alle 3 di notte in un capannone di via dei Falignami nella zona industriale delle Bocchette a Capezzano Pianore. Nessuno è rimasto coinvolto ma la struttura è a rischio crollo ed è finita sotto sequestro per motivi di sicurezza. Le fiamme hanno distrutto tutto ciò che si trovava all'interno provocando il cedimento del soffitto. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco con mezzi provenienti da Lucca, Pisa e Massa e oltre 20 uomini. L'incendio è stato domato all'alba. Il pericolo però è anche di carattere ambientale e sanitario. Le coperture del tetto e i travi di sostegno sono in ethernet e materiali in amianto. Arpat e Asl sono arrivate sul posto e hanno disposto l'intervento di una ditta specializzata per la rimozione dell'amianto secondo le procedure di legge. La struttura è di proprietà di arco immobiliare arredamenti e veniva data in affitto ad una ditta di vernici, la Riccardo di Maguina e alla cooperativa sociale e altri valori delle Bocchette che la utilizzava come deposito di mobili e suppellettili. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Camaiore che non escludono nessuna ipotesi. Al momento tuttavia la pista più concreta è quella dolosa. La porta sul retro del capannone, chiusa come sempre alla sera dai titolari, è stata infatti ritrovata aperta. E poi c'è un precedente, un altro incendio di modesta entità che era stato appiccato ad agosto all'esterno della struttura, per fortuna senza conseguenze. Saranno le indagini a chiarire se dietro questo grande rogo ci sia la mano dell'uomo. In seguito all'incendio del capannone delle Bocchette è stata chiusa il traffico dei veicoli e anche dei pedoni, il pezzo di via degli armatori che si mette in via dei falignami. Intanto la ASL e ARPAT hanno sollecitato il sindaco di Camaiore per un'ordinanza di divieto di utilizzo di frutto e verdura nell'intera zona fino all'accessato allarme di inquinamento ambientale. Questo è un aggiornamento arrivato nel pomeriggio. Ancora per la cronaca una violenta rapina ai danni di una tabaccheria del centro di Viareggio. Pensate al quarto episodio nel giro di poco tempo da quando l'attività ha aperto. Grande paura per i titolari ma anche per i residenti della zona che chiedono interventi e più controlli. Sentiamo. Quattro rapine da quando è aperto. Un ruolino di marcia poco invidiabile, quello del tabacchino di via Matteotti a Viareggio che nella tarda serata di martedì è stato nuovamente visitato dai banditi. Coltello in pugno sono entrati nella storica tabaccheria Non Solo Fumo in piano centro che si trova davanti alla farmacia e una volta all'interno hanno picchiato l'anziana titolare dandola un colpo in testa per poi legarla e rubare poche centinaia di euro. Secondo le prime testimonianze i due malviventi potrebbero essere italiani. Sotto shock la proprietaria del tabacchino che appena ripresa si ha fatto scattare l'allarme. Sul posto è intervenuta la polizia di Viareggio con la scientifica per i rilievi del caso. Questa strada è buia la sera. Lei ha timore, ha paura la sera a uscire qui da sola? Io vado alla messa alle sei e mezzo, ora ci penso un po' quando devo ritornare a casa. E la paura di tutti. Che cosa ci vorrebbe secondo lei? Ci vorrebbe più polizia e più controlli, ma non ci sono, vediamo che vengano fatti. Siamo proprio a zero come sicurezza, non si può andare in giro, la sera dei sei non c'è più nessuno in Viareggio, è una cosa vergognosa e le videocamere sono poche. Siamo in un mondaggio. Ospite della nostra trasmissione pomeriggio con noi, in onda tutti i giorni alle 14 sul canale 10 di Noi TV, è stato oggi l'avvocato Massimiliano Baldini del movimento Cittadini di Viareggio e Torre del Lago. Vi do una notizia, è la quarta volta che questa tabaccheria subisce una rapina, da quando è aperto. Sono stufo di sentire le istituzioni, penso ai prefetti ma penso anche al sottosegretario Manzione che è intervenuto nel Consiglio Comunale Aperto di Massarosa anche pochi giorni fa, sentire le istituzioni che parlano di percezione di insicurezza, come se in realtà quello che dicano i cittadini sia in realtà molto meno di quello che è in realtà. Ladri che invece hanno vandalizzato la Casina dei Ricordi, già lo sapete, notizia di domenica, successo sabato notte e c'è l'annuncio di un sistema di allarme per il luogo simbolo della strage ferroviaria di Viareggio. Soddisfatti i familiari delle vittime, sentiamo. Un impianto di allarme che metta al sicuro la Casina dei Ricordi, il luogo della memoria delle 32 vittime della strage ferroviaria di Viareggio, continuamente vittima di ladri e vandali senza cuore. A finanziarlo sarà la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. L'annuncio arriva all'indomani dell'ennesimo episodio avvenuto sabato notte nella piccola struttura di via Porta Pietrasanta. I ladri hanno sfondato le finestre e una volta all'interno hanno messo tutto a suo quadro, riuscendo a portare via ben poco. Il finanziamento per il nuovo sistema di allarme è stato accolto con soddisfazione dai familiari delle vittime. È già da contatto avvenuto stamattina che subito si sono premoniti di avvisarci e di contattarci per capire come poter installare un sistema di sicurezza in un luogo per noi fondamentale ma per tutta la città di Viareggio. A noi fa piacere soprattutto il gesto e la sensibilità, al di là di quello che si farà in un secondo momento, anche con delle risorse economiche importanti, ma a noi quello che ci serviva era proprio questo gesto che arriva sia dalla fondazione Cassa di Sprello di Lucca ma anche da privati e da persone che ci hanno scritto via mail e che si stanno adoperando per darci una mano. Ecco, quello è quello che noi chiediamo a questa città ma la città risponde sempre con una sensibilità, una sensibilizzazione che va al di là di tutto e soprattutto al di là degli episodi. Dal 4 dicembre ci saranno novità per la consegna della posta nei comuni della Versilia Storica e purtroppo non sono novità positive perché il servizio verrà in qualche modo ridotto. La posta sarà consegnata a giorni alterni, è questo l'annuncio di poste italiane e c'è subito la presa di posizione netta dei sindacati per la difesa del servizio e dei posti di lavoro che verranno a mancare. Sentiamo. Corrispondenza a giorni alterni o se preferite a Singhiozzo. Dal 4 dicembre partirà nei quattro comuni della Versilia Nord il piano di razionalizzazione varato da poste italiane. 15 postini in meno saranno in servizio tra Pietrasanta, Forte dei Marmi, Seravezze e Stazzema. Il colosso statale delle telecomunicazioni la definisce implementazione graduale del modello di consegna approvato da Agicom. In realtà la consegna della posta sarà di fatto ridotta a cadenza bisettimanale, tre volte la prima settimana e due nella seconda. Un'operazione che parte dalla Versilia ma che da gennaio interesserà anche otto comuni della Valle del Serchio. In tutto sacrificherà 25 portalettere che saranno riassorbiti in altre funzioni sul territorio provinciale. I sindacati sono sul piede di guerra. CGL e Will, insieme a CISL, hanno avuto oggi un primo incontro con il sindaco di Forte dei Marmi per chiedere ai comuni della Versilia di ricorrere al TAR e bloccare poste italiane. È l'unica misura perché il 4 dicembre i posti italiani intende partire perché ha avuto comunque il via libera a livello nazionale il 25 di ottobre quando al tavolo nazionale è stato chiesto di sottoscrivere questa intesa che CGL e Will non hanno sottoscritto ma gli altri sindacati sì in cambio di una risoluzione anche del nostro contratto di lavoro. Noi siamo una categoria che è 5 anni senza contratto. I portalettere che resteranno avranno una zona enorme si vede già nelle zone implementate come Prato e Arezzo in Toscana che questa riorganizzazione non funziona assolutamente. ci sono giacenze, ci sono posta che non arriva è proprio veramente un disagio notevole. In Consiglio regionale è stata approvata una mozione promossa dal gruppo Sì Toscana per favorire l'apertura di un tavolo di trattativa che vada verso la stabilizzazione dei lavoratori precari delle poste. Sul tema c'è l'intervento di patto civico gruppo consigliare a Seravezza firmato da Andrea Giorgi e Vanessa Greco che chiede al sindaco Talabella di attivarsi immediatamente insieme alle altre amministrazioni della Versilia per contrastare quest'operazione di poste italiane che crea ostacoli ad un progetto che è sbagliato e che va a danno di tutti spiega la nota di patto civico. 23 milioni di euro da investire sul territorio della provincia di Lucca per il 2018 è il bilancio presentato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Sentiamo i dettagli. È di oltre 23 milioni di euro la cifra messa a bilancio dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per gli interventi istituzionali nel 2018. L'annuncio è stato dato dal presidente Marcello Bertocchini affiancato dalla vicepresidente Lucia Corrieri Puliti la direttrice Maria Teresa Perelli e il funzionario Massimo Marzili. Cifra che ricalca anzi supera lo stanziamento dello scorso anno. Nel dettaglio le tipologie di intervento saranno di quattro tipi. Gli interventi diretti, cioè i progetti promossi dalla Fondazione insieme ad altri soggetti. 2,8 milioni di euro che nel 2018 saranno destinati a Fondazione Campus, Fondazione Raghianti, i soggiorni estivi per i ragazzi, i mutui accesi per i locali di IMT e molto altro ancora. Le iniziative di terzi concordate. 2,6 milioni spalmati tra vari sostegni. Dal Festival Pucciniano al Carnevale di Viareggio, dal Lucca Film Festival passando per due nuovi progetti. Un'area industriale a Gramolazzo e la nuova sede dell'Associazione Italiana Cechi. E poi i progetti strategici, a cui andranno ben 10 milioni di euro. Il completamento dei lavori al mercato del Carmine, il recupero dell'immobile in via Brunero Paoli a Lucca da destinare a IMT, ma soprattutto 2 milioni di euro per l'edilizia scolastica, prima tranche di un progetto ad ampio respiro che nei prossimi anni attiverà almeno 50 milioni. È un progetto che comincia da almeno 5-6 anni fa, quando è stato lanciato il precedente bando per l'edilizia scolastica. venne accertate esigenze del territorio intorno ai 130-140 milioni di euro per mettere a norma tutte le scuole della provincia. Da lì, diciamo, la fondazione ha messo in piedi un piano dove, oltre alle risorse proprie, ovviamente si vanno a cercare anche altre risorse, non tutte a fondo perduto, qualcuno anche sotto forma di finanziamento, poi ovviamente da restituire da parte degli enti proprietari delle strutture, per vedere di arrivare nel giro di un numero di anni abbastanza ragionevole alla sistemazione completa dell'edificio, perché penso che immagino che sia una priorità assoluta in tutto il territorio sapere che i ragazzi sono in degli ambienti che sono sicuri e che non hanno, diciamo, rischi di questo tipo. E infine i bandi differenziati per 3,2 milioni di euro, confermati sia il bando generico per progetti vari che quello per le categorie sociali deboli. La novità è il bando a sostegno dell'attività ordinaria per enti privati e associazioni, tutti aperti nei prossimi giorni, con chiusura entro fine anno. Avete sentito anche il sostegno economico al Carnevale di Viareggio da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, ma oggi arriva anche la buona notizia da Roma. Il Carnevale è considerato a tutti gli effetti patrimonio culturale, e dunque si aprono le porte finalmente per i contributi del Ministero. Sentiamo servizio. Il Carnevale di Viareggio è patrimonio culturale, lo afferma la nuova legge sullo spettacolo approvata oggi alla Camera dei Deputati. Burlamacco, come gli altri baccanali italiani, potrà quindi attingere i contributi del Ministero attraverso il Fondo Unico per lo Spettacolo dal vivo appena riformato. È quanto emerso dall'intensa giornata romana per i Carnevali italiani che martedì, dopo essersi riuniti in Assemblea, hanno partecipato in Senato all'incontro dal titolo Carnevali storici, energie per il futuro. Relatori, il Presidente della Commissione Cultura al Senato, Andrea Marcucci. Il parlamentare lucchese ha illustrato il difficile iter appena conclusosi alla Camera. Riteniamo che sia importante aver inserito proprio questo tipo di progetto culturale all'interno della nuova legge che definisce la possibilità di intervento del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali tramite il FUS. È un passaggio importante di rilevanza nazionale che certifica l'apprezzamento dello Stato nei confronti di queste attività, della loro funzione culturale e sociale. Quindi credo sia un bel passo in avanti a supporto di tutti i Carnevali d'Italia. Siamo molto felici di averlo fatto in una legge importante, una legge di settore, una legge quadro che riguarda tutte le attività di spettacolo e culturali del nostro paese. Quindi un grande risultato di questa legislatura di cui francamente andiamo molto fieri. A nome dei Carnevali italiani è intervenuta anche la Presidente della Fondazione, Marialina Marcucci, in qualità di Presidente di Carnevalia, associazione nata pochi anni fa che si arricchisce giorno dopo giorno dell'ingresso di rappresentanti di manifestazioni carnevalesche che si svolgono dal nord al sud dell'Italia. Disagi al via, potremmo dire, sulla via sarzanese a Massarosa, dove partono in questi giorni i lavori per la posa di asfalto fonoassorbente. Piano del Quercione e Chiesa-Bozzano. Vediamo. Minore inquinamento acustico e maggiore sicurezza stradale. Sono questi i principali obiettivi dell'intervento di posa in opera di asfalto fonoassorbente iniziato in queste ore sulla sarzanese nelle frazioni di Piano del Quercione e Chiesa nel comune di Massarosa. L'opera in corso porterà beneficio agli abitanti delle due frazioni e agli automobilisti. Per consentire lo svolgimento dei lavori sono previsti restringimenti di carreggiata e limitazioni al transito veicolare con l'attuazione di un senso unico alternato sulla strada sarzanese Valdera-Massarosa, che interesserà Piano del Quercione e dal chilometro 16 al chilometro 18 la località Bozzano e Chiesa. L'ok all'inizio dei lavori arriva dalla provincia di Lucca, che ha concesso il nulla osta alla ditta appaltatrice. Non sono previste chiusure della strada, poiché i lavori si svolgeranno a transito aperto con il senso unico regolato dalle 8.30 alle 17.30. Nel corso dei lavori, che si svolgeranno in varie fasi, si tratta di due cantieri distinti, in accordo con la Regione Toscana che ha finanziato l'intervento, verranno effettuati anche dei campi prova con miscele speciali di asfalto fonoassorbente condotti dai ricercatori dell'Università di Pisa. La ditta è incaricata, secondo il capitolato d'appalto, a 97 giorni di tempo per concludere l'intervento delle asfaltature nei tratti citati della via sarzanese. 13 anni fa la tragica scomparsa di Matteo Valenti, il giovanissimo operaio Via Regino, morto per un incidente sul lavoro. Oggi, a 13 anni appunto di distanza, è stata svelata una nuova statua in sua memoria. Vediamo. 13 anni fa, a quest'ora, eravamo al grande centro ostionati di San Pierdarena e non sapevamo ancora che cosa la vita ci avrebbe riservato. Una nuova statua in memoria di Matteo Valenti, il giovane operaio Via Regino, morto per le gravi ostioni riportate in una fabbrica dove lavorava da pochi giorni, l'8 novembre del 2004. La scultura in bronzo è stata svelata nel tredicesimo anniversario sulla banchina del lungo canale a lui intitolata, dove aveva trascorso la sua infanzia. Realizzata e donata alla famiglia dall'artista Libero Maggini, sostituisce la precedente statua, danneggiata negli anni da alcuni vandali. Presenta all'inaugurazione il sindaco Giorgio Del Ghingaro, una classe delle scuole Lenci del Varignano e alcuni giocatori del Via Reggio Beach Soccer, il gruppo bianconero nato proprio all'indomani della tragica scomparsa. Matteo amava il mare, la pesca, la sua Via Reggio e aveva un sogno, la vita. Per la mamma, Gloria Puccetti, ex vice sindaco di Via Reggio, oggi in consiglio comunale, sono stati 13 anni di dolore, ma anche di lotta per la sicurezza sui posti di lavoro. Qualcosa abbiamo ottenuto lentamente, ma la fatica è enorme, non riusciamo mai a raggiungere gli obiettivi che ci diamo. Qualcosa spostiamo, lentamente miglioriamo la storia, miglioriamo la sensibilità delle istituzioni, della politica, delle leggi, ma non è facile, perché il muro è enorme e insormontabile e le nostre associazioni non sono protette, non sono protette, la legge non è mai dalla nostra parte e spesso siamo abbandonati. Ci fermiamo con la pagina di Cronaca, tra poco riprendiamo, ci sono le notizie sportive, a tra pochissimo. Ben ritrovati con la pagina sportiva del TG Noi in Versilia, partiamo dall'hockey su pista e purtroppo c'è il brutto scivolone in trasferta del CGC Via Reggio che in campionato ha perso sulla pista del Follonica decisive, alcune decisioni dell'arbitro e sono state contestate dai bianconeri. Sentiamo. Il certo giovane cacciatore è uscito sconfitto dal capannino di Follonica con il punteggio di 6 a 5, sotto accusa molte decisioni arbitrali, una bella rimonta non è bastata ai bianconeri per cercare di riportare la partita in parità dopo che all'inizio era sotto di 3 a 0 la squadra bianconera. Dopo tre minuti Federico Pagni segna sul rigore, al settimo viene espulso Costa e Barozzi però para il tiro diretto di Martinez, in superiorità numerica dopo un intervento dubbio su Montigelli in aria raddoppia ancora Martinez. All'undicesimo espulso Rodriguez, Ventura trasforma il tiro diretto che viene fatto ripetere addirittura due volte e poi parato da Menichetti. Al quattordicesimo azione personale di Rodriguez che segna il 3 a 0, tre minuti dal termine della conclusione del primo tempo viene espulso Costa per proteste e gioco fermo per i bianconeri iniziano la ripresa in inferiorità numerica. Dopo otto minuti segna Mirko Bertolucci su un'azione personale, al nono pareggia ancora i riconti paghi, all'undicesimo il CGC sfrutta una superiorità numerica segnando con Muglia. Quattro minuti dopo ancora una bellissima rete di Mirko Bertolucci. Al diciottesimo Menichetti para a Muglia un tiro diretto per il decimo fallo, mentre un minuto dopo Martinez trasforma il tiro diretto battendo Barozzi. Al diciannovesimo gol di Ventura da fuori per il 5 a 4. Al ventesimo Martinez trasforma un altro tiro diretto. Al ventunesimo prima un patto in aria del Folloni che poi un fallo da blu su Ventura non vengono sanzionati dai direttori di gara. Poco dopo viene espulso Montigella e Barozzi para il tiro diretto. Ventura segna infine una rete ma che viene annullata a 23 secondi. Gavioli segna il 6 a 5 che lascia davvero molto amaro la rincorsa per il pareggio sfuma con la sirena. Lasciamo l'occhi su pista. Adesso c'è il calcio. Una giornata di squalifica per l'allenatore del viereggio Carlo Bresciani e quanto ha stabilito giudice unico della Lega Nazionale di Lettanti che ha preso e ha reso noti i provvedimenti in merito alle gare del campionato dell'ultima domenica. Il mister Zebrato era stato allontanato per proteste nei confronti del direttore di gara nel corso della gara con Argentina. Per un turno è stato squalificato anche il portiere Matteo Cipriani che era stato espulso per doppia ammunizione. Per la gara di domenica contro il Savona quindi Bresciani non potrà sedere in panchina. Al suo posto Alessandro Mannini, allenatore in seconda in porta, sarà schierato invece Andrea Carpita. Una gara di squalifica anche per l'attaccante del Real Forte Querceta, Gabriele Falchini, espulso a Scandici. Due turni invece per il fantasista del Ghiviburgo, Biagio Pagano, ex Viareggio e Massese, che salterà quindi sia la gara di domenica al buon riposo di Seravezza che quella successiva in casa con la Lavagnese. Nel prossimo servizio invece andiamo a sentire le parole rilasciate ai nostri microfoni da Oreste Cinquini, sportivo viareggino che negli ultimi anni ha fatto fortuna nello sport in Russia, a San Pietroburgo. Sentite. Il direttore generale dell'era Mendella del Viareggio Oreste Cinquini si è ormai trasferito da qualche anno in Russia dal punto di vista professionale. È qualche giorno in città e lo abbiamo incontrato per parlare di questa sua esperienza. Oreste Cinquini come sempre lavora in Russia, è qua a Viareggio per anche lui qualche giorno di vacanza. Allora ecco la tua dimora è la Russia. Facciamo questa nuova esperienza. Purtroppo queste cinque partite abbiamo fatto solo tre punti, siamo secondi in classifica, siamo già passati però al turno successivo in Europa League, è una grande esperienza, ormai da cinque anni che praticamente vivo là, quindi conosco molto bene il calcio russo e spero di far bene anche lo Zenit. Lasciamo il calcio, c'è tempo per un risultato di basket C femminile, esordio vincente per la SG Viareggio che ha vinto 51 a 47 a Piombino. Ci fermiamo con la pagina sportiva, tra poco di nuovo insieme, terza parte del telegiornale con gli eventuali aggiornamenti. Ben ritrovati, terza parte del TG Noi Versilia, non abbiamo aggiornamenti di cronaca, vi ricordo un paio di appuntamenti per questa domenica. La polisportiva Silenziosi Versiliesi con la collaborazione della Centro Attività Motori e Camo Viareggio dell'Associazione L'Uovo di Colombo organizza la quindicesima marcia podistica senza barriere, valevole per il trofeo delle tre province. È una marcia non competitiva di 3, 6, 12, 18 km con controllo a tempo. Il ritrovo sarà al Cesare in via Comparini a Viareggio, partenza dalle 8 alle 8 e 30. E domenica festa di San Martino. Si festeggerà ovviamente il patrono a Pietrasanta con la tradizionale fiera artigianale nella piazza del Duomo, ma sarà festa anche in Pineta di Ponente a Viareggio, in via Marco Polo, all'Auser dalle 14 e 30 alle 19. È infatti in programma la festa con mondine dei mondinari di Pedona. Ci sarà anche l'occasione oltre che per gustare i prodotti delle castagne, anche per vedere spettacoli di musica e di ballo. E anche la partecipazione di Adriano Barghetti. Il ricavato della festa sarà devoluto in beneficenza all'associazione Micuro di me, estetica oncologica. L'ingresso ovviamente è libero con il patrocinio del comune di Viareggio. Prima di chiudere, prima di salutarci, ci sono gli auguri anche questa sera. Partiamo dagli auguri di buon compleanno. Auguri a Grazia Sinagra di Camaiore, consigliera provinciale che oggi compie gli anni. Auguri anche ad un mascheratista del carnevale di Viareggio, Michele Canova, che oggi festeggia gli anni. E poi gli auguri vanno a Fabrizio del signore di Camaiore, appassionato di sport e dirigente del settore giovanile sportivo a Capezzano. A lui gli auguri di buon compleanno. E poi ci sono delle congratulazioni da fare a Bianca Bertini, che si è brillantemente laureata all'Università di Pisa in discipline dello spettacolo e delle comunicazioni con una tesi dal titolo Il segreto delle cose, un cortometraggio sulla poetica dell'oggetto. 110 e lode. Relatrice è la professoressa Alessandra Tralischi, alla neolaureata, congratulazioni da parte della famiglia e degli amici. È davvero tutto per questa edizione. Io vi ringrazio per averci seguito. A tutti voi l'augurio di una buona serata.